Ciao, oggi parliamo di Milleavventure, la nuova proposta di giuntiscuola per il triennio. Già dalla copertina si capisce la chiave del progetto. Milleavventure si potranno vivere grazie alla curiosità, perché curiosando si impara. Cerchiamo di capire meglio che cosa intendiamo. Nel metodo c'è la storia che è lo sfondo integratore di tutti i volumi ed è la storia di Pop, una folletta curiosa che parte alla scoperta di Grande Prato. La storia è avvincente, i bambini non vedranno l'ora di leggerla e avranno anche la possibilità di raccontare loro stessi un pezzo di storia. Ma la curiosità non è soltanto all'interno del volume del metodo. Tanti sono i box Curiosando presenti su tutti i volumi. Vediamone qualcuno. Nel volume di Matematica, il box di Curiosando ci introduce al mondo dei numeri e ci fa scoprire di come in realtà ci sono nella nostra vita di tutti i giorni. Nel volume invece di lettura e grammatica, il box Curiosando si focalizza sulle nostre emozioni. Perché ridiamo e piangiamo? Molto molto carine sono i box Curiosando presenti sul volume delle discipline. Lo scorrere del tempo è così diverso a seconda se ci divertiamo o meno e la mano destra e la mano sinistra sono così difficili da riconoscere. Ce ne sono tanti altri di box. Venite a guardarli in libreria o contattate il vostro agente per sfogliare i libri dal vivo. In fondo i nostri libri fanno scuola. Perfetto 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 Grazie a tutti.